Siamo in piazzetta del Liberty, abbiamo il signor Andrea con il Montclair, la maglietta di El Charro di Chaumat, film tipico romano dei fini anni 80, delle Vans arancio, modello era senza i lacci e sicuramente dietro a questo jeans abbiamo una cintura di El Charro e abbiamo una bella toppa della Nye Oleari su questo jeans di El Charro e un Invicta Mini Sack. Uno scuba, dei Ray-Ban Olympian 2, orecchino nell'orecchio sinistro, occhio a sbagliarsi e per una volta, forse la prima volta nella vita, capello un po' sparato che ci sta alla grande. Grande Andrea.